Laboratorio di informatica, elettrotecnica e anche la novità della robotica, queste le eccellenze all'interno dell'ITT Ferraris di San Giovanni che trasformano di fatto la teoria di quanto viene imparato sui libri in pratica. Ascoltiamo direttamente le esperienze degli insegnanti ma soprattutto degli alunni autori di alcuni progetti che poi saranno importanti anche nel mondo del lavoro. Loro stanno facendo dei piccoli progetti che poi per imparare a progettare poi siti web molto più complessi e articolati. Questa mattinata abbiamo fatto un test PHP che insieme all'SQL è il linguaggio di programmazione che facciamo in quinta in preparazione all'esame di maturità che prevede l'analisi e la progettazione di un progetto, di un programma con tutte le varie parti, la progettazione, l'analisi, la programmazione e tutte cose che abbiamo fatto in questi tre anni di indirizzo di informatica e nel quinto anno ci stiamo specializzando sulla parte server di questo progetto. Dal laboratorio di informatica adesso spostiamoci a quello di elettrotecnica. Questo è un laboratorio molto pratico perché ci aiuta a realizzare dei progetti che si riaffacciano veramente nel mondo del lavoro. Come possiamo vedere alla mia destra qui c'è delle automazioni che possano essere tranquillamente in delle fabbriche. L'hanno realizzato dei ragazzi come progetto per l'esame in collaborazione con l'azienda. Alla fine sì è l'ultima parte, è proprio la pratica del nostro mestiere diciamo. Si unisce anche all'alternanza scuola-lavoro. Sì, allo stage si può riscontrare questa produzione con queste macchine. Dall'elettrotecnica andiamo a vedere adesso quella che è la novità del corso di quest'anno, ovvero la robotica. Questo indirizzo è stato introdotto quest'anno nel nostro istituto tecnico industriale. Sono dei progetti che si parte da cose banali tipo queste fino ad arrivare sempre più in là a cose sempre più avanzate. Ci sono dei robottini, per esempio questo qua che è un braccio robotico che in base a un sensore di distanza riesce a vedere un oggetto, a prenderlo e a trasportarlo in un altro posto in base al comando gli si può dare. Oltre al braccio robotico abbiamo anche un seguilinea che tramite un sensore di colore riesce a seguire la linea nera e non errare diciamo la sua distanza.